Ciao, il mio nome è Virginia e vengo dall'Italia. Quando ho deciso di trasferirmi a Londra era per cercare una vita migliore, ma una volta arrivata a qui ho realizzato che per avere un buon lavoro dovevo anche avere una buona padronanza della lingua. Ero un po' preoccupata, a dire il vero, perché non pensavo mi sarebbe stato possibile studiare nel centrisatto di Londra, ma la Language House London si è rivelata essere una scuola meravigliosa che mi ha davvero dato una possibilità di iniziare a studiare.